Inizia un'altra stagione in bianco-nero, intanto come si è trovato con i tuoi nuovi compagni Yallo e i nuovi Nesti? Ci è voluto un po' per trovare l'intesa, però ora ci stiamo trovando molto bene sia con Yallo, con Moncini, con Ettore e Giozzi e dobbiamo conoscerci ancora bene, però ci siamo quasi. Il direttore Foschi ha detto che arriverà un altro attaccante di peso, pensi che così sarà completo l'attacco? Penso di sì, ci servirebbe un attaccante buono che ci dà una mano quest'anno e lo accoglieremo bene. Domenica si comincia già? Sì, domenica stiamo già preparando questa settimana con la testa domenica, è importante passare il turno perché poi andiamo ad incontrare il Genoa, quindi daremo tutto e cerchiamo di portare a casa i tre punti. L'anno scorso hai firmato il tuo primo contratto da professionista, quest'anno avrai più spazio, ti aspetti di avere più spazio in squadra, in prima squadra? Spero di avere più spazio, mostrerò le mie qualità in campo e sarà il mister a decidere. Quali sono le tue qualità, le tue caratteristiche? Qualità, io sono tecnico, faccio girare il gioco, ancora sono le prime armi, però darò tutto quello che avrò per mostrare le mie qualità.